fa caldo fa caldo fa caldo è logico è logico è la tunda non è che è caldo c'è cazzo porca ben bello di all'infarto eh? stronzo la sorella chiudegli la tua sorella la tua sorella vai esci qualche puttana esci ora metti i coglioni qualche puttana i coglioni scelto scelto oh non mi dobbiamo dai e sbrigati arriva pure le calzette monouso dammene una animale quanto sono costate? di quanti cazzo? te la pari andiamo a lavorare andiamo a cucinare e quella è il cellulare una quantia di 2 kg ce l'abbiamo o si o no? ce l'abbiamo o si o no? dobbiamo fare la fine da un treno e l'abbiamo presto pronto? questa è la location dove gireremo le prime scene ancora non abbiamo il titolo della serie ci sono loro che sono usciti perchè c'è melocambria che è allergico adesso andiamo da là mi sento goffo ce ne andiamo è pieno di zanzare sta macchina porco carne è pienissima questa è una macchinina che ci ma che pare piccola non pare vedi che pare piccola può cambiare esposizione? oggi siamo andati a cercare quei pochi sponsor ma diciamo quelle brave poche persone che ci stanno sponsorizzando adesso siamo andati a fare un sopralluogo per la location e adesso e adesso andiamo a mangiare così poi noi durante questo fine settimana il giorno è oggi il giorno è oggi il giorno 3 è martedì giugno ovviamente 2014 entro sto fine settimana dobbiamo finire tutte quelle poche cose che restano perchè abbiamo finito tutto abbiamo finito di scrivere la serie totalmente e iniziamo a girare lunedì data 8 lunedì 8 va bene per il momento è tutto a voi studio a voi che Grazie.